Di Dottor Apocalypse martedì 15 maggio 2018 bisnonna a 78 anni La leggendaria Mina, icona della musica italiana, è diventata bisnonna grazie ad Axel Pani, nipote della cantante nonché figlio di Massimiliano Pani, diventato padre il 9 maggio scorso della piccola Alma Pani, nata all'ospedale Versilia Lido di Camaiore, Lucca A riportare la notizia il Tirreno online. La mamma di Alma e Rebecca Varsotti, figlia di Massimo Varsotti, titolare di un noto ristorante di Viareggio Mina ha due figli, Massimiliano, nato dal rapporto d'amore con Corrado Pani, e Benedetta, nata dalla storia con Virgilio Crocco, suo primo marito Il secondo, Eugenio Quaini, cardiochirurgo cremonese con cui fa coppia dagli anni 70, l'ha sposato nel 2006 ed è oggi ancora al suo fianco Il primo genito Massimiliano le ha dato due nipoti, ovvero Axel ed Edoardo, nati rispettivamente nel 1986 e nel 2004 Il primo, da pochi giorni, l'ha tramutata in bisnonna. Auguri Mina, vota l'articolo, 4.00 su 5.00 basato su due voti, i video del canale Donna Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti